E allora a questo punto sentiamo il dottor Limitone. Delle utilità che non sono soltanto scientifiche, mi riferisco ovviamente alla piacevolissima serata di ieri con tutti i redattori e gli altri ospiti. Grazie quindi, io devo parlare di un tema spero non troppo noioso, che riguarda l'esercizio dei diritti dei terzi nei confronti delle procedure esecutive, siano esse concorsuali o siano esse individuali. Sì, sono minevaganti, adesso vedremo subito perché, perché sono terzi che possono qui escere e sbucare appunto all'improvviso. Ebbene, questi terzi intanto non sono tutti uguali, ci sono terzi e terzi, ci sono i terzi che subiscono l'esproprio in modo legittimo, per esempio il terzo datore di ipoteca o il terzo acquirente di ipoteca, questi stanno lì, anzi sanno bene qual è la loro sorte. Viceversa ci sono i terzi che subiscono l'esproprio in modo illegittimo e qui ci sono due tipi di terzi, sono i terzi che subiscono l'esproprio direttamente come previsti dal titolo esecutivo o comunque come il soggetto che il procedente ritiene che debba subire l'esecuzione. Una Cassazione del 99, mi aggancio anch'io all'anno 99 per queste citazioni, però gliela porto se vuole vederle questa. Una Cassazione del 99 dice appunto che l'esecuzione va portata e quindi va notificato il titolo esecutivo con il precetto al soggetto che il creditore ritiene debba subirla. Ecco, quel soggetto può contestare ovviamente di essere lui il vero destinatario di quella esecuzione e quindi si opporrà ex articolo 615. Non parlo dell'opposizione degli altri esecutivi che sapete è opposizione formale, io parlo soltanto delle opposizioni che riguardano l'AN del procedere. Invece, ecco perché è pericoloso il terzo, diciamo, del 619, questo terzo non sta subendo l'esecuzione, quindi mentre quello che la subisce può reagire con l'opposizione ex articolo 615, il terzo contro il quale l'esecuzione non stia procedendo ma che stia coinvolgendo un bene suo può reagire e può reagire quando vuole. Questo è il punto. Ecco. Allora, io vorrei insomma anche un po' sintetizzare per la comprensione. Quando l'esecuzione si rivolge contro un soggetto direttamente, questo soggetto può reagire con l'articolo 615. Quando invece l'esecuzione si rivolge non contro un soggetto ma contro un bene, quindi contro una cosa, di qualcuno che non è direttamente chiamato dal procedente nell'esecuzione, allora la reazione sarà con l'opposizione ex articolo 619. Con una differenza particolare, che mentre il soggetto chiamato coinvolto nell'esecuzione direttamente, se non reagisce all'interno del processo esecutivo che lo ha coinvolto, vede consolidarsi i risultati dell'esecuzione nei suoi confronti, viceversa il terzo, il cui bene è coinvolto nell'esecuzione ma non è lui il chiamato, può benissimo assopirsi, osservare da lontano e dopo tirare l'ammazzata finale, per esempio, alla giudicataria. Ma lo vedremo meglio nel dettaglio. Se vuole intervenire, quando vuole, professore. Ecco, allora, le situazioni che legittimano la reazione ex articolo 619 sono tendenzialmente riassumibili nello stesso enunciato della norma, cioè chi vanta la proprietà o altro diritto reale. Ma la dottrina, giustamente, estende insieme con la giurisprudenza la possibilità di reagire con l'articolo 619 a tutte quelle situazioni che in qualche modo possono incidere sulla situazione giuridica del terzo e anche sulla situazione giuridica del procedente. Facciamo il caso, che è soltanto prodromico, della domanda ex articolo 2932 che ci spiega che può proporre opposizione ex articolo 619 anche colui che non ha ancora la proprietà o altro diritto reale ma è in itinere per averla, cioè sta per essere dichiarato proprietario, per esempio, con una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso ex articolo 2932. Allora, distinguiamo proprio questo caso, che è uno dei più interessanti. chi abbia trascritto la domanda giudiziale prima del pignoramento da chi invece ha trascritto la domanda giudiziale dopo il pignoramento. Naturalmente, chi l'ha trascritta dopo per il principio dell'opponibilità basato sulla regola del primo trascrivente e chi ha trascritto dopo non può influire sull'esecuzione forzata perché anche se è una sentenza lo dichiarerà proprietario dopo qualche tempo comunque il pignorante prevale sul trascrivente. Viceversa, se il trascrivente la domanda, cioè colui che sta per diventare proprietario ha trascritto prima del pignoramento si pone una situazione di incertezza, di attesa perché se questo diventa proprietario l'esecuzione forzata si è svolta nei confronti di un soggetto il debitore, il promittente venditore che poi non sarà colui che dovrà subire l'esecuzione dopo che la sentenza retroagente alla data della trascrizione della domanda avrà dichiarato proprietario un altro, cioè il promissario acquirente. Allora, il problema che si pone è come tutelare il diritto, sì, del promissario acquirente e come anche tutelare il diritto all'esecuzione del creditore. Ora, diciamo, la regola, diciamo, la soluzione che si ritiene preferibile è quella di dare avviso ex articolo 498 come se fosse un creditore iscritto estendendo, diciamo, la norma a queste situazioni di dare avviso a colui che ha trascritto la domanda che potrà diventare proprietario il quale, però, badate bene, con questo avviso non è che sia poi tenuto né a intervenire nell'esecuzione ad alcun titolo e neanche a fare opposizione. Una volta datogli l'avviso, naturalmente qualcuno ha proposto anche la soluzione della sospensione automatica delle esecuzioni in attesa della sentenza che dichiari chi è il vero legittimato passivo dell'esproprio. Però la sospensione automatica non è prevista nel nostro sistema in questo caso e quindi sembra preferibile, insieme all'avviso che viene dato ex articolo 498 al terzo trascrivente sembra preferibile avvisare nell'ordinanza di vendita anche i potenziali compratori che sanno che c'è questa incertezza e cioè che possono eventualmente comprare un bene che un domani si verificherà l'evizione e quindi un bene che sarà di un altro. Ancora leggermente più complessa ma forse di più facile soluzione è quella della domanda giudiziale trascritta prima del pignoramento quindi con attitudine ad incidere sul processo esecutivo ma dopo l'ipoteca cioè il creditore ipotecario ha una ipoteca in base alla quale trascrive il pignoramento in mezzo il terzo ha trascritto la domanda giudiziale che gli consentirà un domani di diventare proprietario. Allora qui il problema che si pone è intanto che bisogna fargli l'avviso e poi il problema che si pone è contro chi il creditore ipotecario che comunque fa salvo il suo diritto nei confronti del terzo trascrivente contro chi dovrà portare l'esecuzione forzata. E allora il terzo in questo caso può fare l'opposizione ex articolo 619 come vi ho detto e qualora diventasse proprietario il giudice ovviamente in questo caso dovrà sospendere sarà opportuno sospendere l'esecuzione perché qualora diventasse proprietario il terzo a seguito della sentenza pronunciata ex articolo 2932 l'esecuzione forzata dovrebbe ricominciare nei suoi confronti ex articolo 602 quindi con la nuova notifica del titolo esecutivo del precetto perché la Cassazione gli riconosce ancora nel 95 il diritto che è un diritto importantissimo a purgare dall'ipoteca l'immobile cioè lui può benissimo aspettare di diventare proprietario e poi può avere interesse a pagare i creditori liberarsi dell'ipoteca e restare proprietario del bene vi dicevo che appunto come dicevo ieri l'estremo pericolo quando i giudici dell'esecuzione dichiarano improcedibili o estinguono una procedura esecutiva in quel caso come vedete è importantissimo che ci sia stata la trascrizione dell'ipoteca o dell'azione ex 2932 prima del pignoramento se cade il pignoramento addirittura passa in prima fila la trascrizione della domanda quindi stiamo attentissimi a distinguere le procedure esecutive quando ci sono sospensioni io approfitterei di questa di questa di questa di questa ottima segnalazione perché lo vedo anche come essendo giudice delegato dell'esecuzione tante volte il curatore non non si vuole giovare inconsapevolmente del pignoramento mentre lo può fare perché il pignoramento che è una iniziativa corrisponde ad un'iniziativa esecutiva individuale giova il curatore nel senso che poi quel pignoramento rende inopponibili alla massa dei creditori tutti gli atti successivi e il curatore invece che tante volte viene a chiedere addirittura di non di procedere sia alla vendita in sede concorsuale ma disinteressandosi dell'esecuzione individuale chiede anche la cancellazione della trascrizione del pignoramento che invece potrebbe questo è il tema che affronterà il dottor Saia che stiamo piano piano saccheggiando perché la relazione di Saia in realtà contiene tutta una serie di argomenti collegati a questi per esempio appunto questo ci dirà sicuramente il dottor Saia se non ce lo vuole dire glielo chiederemo mano militari se il curatore subentra nell'esecuzione impedisce l'esecuzione forzata e poi invece lui non la continua che succede questo è un vecchio problema di sempre ma dopo che parlerà lui eventualmente mi permetterò di intervenire ottimo tema da approfondire veniamo adesso all'esame delle esecuzioni dirette cioè quando l'esecuzione forzata si rivolge contro un soggetto che sia titolare di un diritto opponibile al creditore perché appunto collocato anteriormente nel tempo rispetto al pignoramento pensiamo ai casi della locazione che sono abbastanza frequenti dell'assegnazione della casa coniugale del diritto di abitazione e qui insomma il tema diventa abbastanza importante perché il creditore procedente può trovarsi a dover subire la reazione di un titolare di un diritto assolutamente occulto cioè non visibile mi riferisco ad esempio al diritto di abitazione del coniuge superstite e al diritto dell'usucapiente ma vediamo con ordine allora nella esecuzione forzata cioè quando l'esecuzione forzata diretta per rilascio quando il purtroppo il caso più frequente è quando la giudicataria si è comprata la casa all'incanto o al senza incanto e comunque va a chiedere il rilascio si trova dentro un soggetto con un diritto di godimento che gli può per esempio un locatario che gli può opporre l'anteriorità del suo diritto rispetto alla procedura esecutiva e quindi la prevalenza del suo diritto e fin qui sarebbe anche niente perché comunque gli paga un canone e il la giudicataria può anche aspettare riscuotendo il canone la reazione che il locatario può opporre nei confronti dell'aggiudicatario in sede di rilascio però come vi ho detto all'inizio non è l'opposizione ex articolo 619 che riguarda i beni ma è l'opposizione ex articolo 615 che riguarda colui che direttamente cioè come soggetto come persona sta subendo l'esecuzione il problema però più grosso che è stato affrontato da dottrina di giurisprudenza e ancora insomma è in lenta lavorazione riguarda il diritto di abitazione ci sono due tipi di diritto di abitazione cioè il diritto di abitazione del coniuge quello diciamo che sopravvive e che secondo la Cassazione vedo qui una sentenza del 30 aprile 2012 numero 66 25 secondo la Cassazione che si rifà poi ad un insegnamento giurisprudenziale anteriore costituisce un prelegato ex legge quindi un legato di specie il quale poiché si acquista automaticamente per legge non è soggetto a trascrizione quindi dice la Cassazione non ci può essere un conflitto in base alle norme sugli effetti della trascrizione tra il diritto di abitazione e gli altri diritti per esempio qui si trattava di un'asta fallimentare il compratore era andato in rilascio e si era trovato il coniuge legatario e ha dovuto appunto aspettare questa è la 6625 6625 30 aprile 2012 che dice proprio chiaramente che il diritto di abitazione non deve essere trascritto e ripeto quello che il coniuge acquista ex legge per effetto della successione qui è anche vero però che gli argomenti diciamo a favore della trascrizione ci sarebbero ed erano stati esaminati dalla Corte d'Appello di Venezia che è stata poi cassata dalla Cassazione appunto perché l'articolo 2648 prevede la trascrivibilità anzi l'obbligo la trascrizione obbligatoria del legato però legato testamentario quello in cui c'è qualcosa da trascrivere il problema è che quando c'è una successione ex legge cioè quando c'è un prelegato ex legge come quello del diritto di abitazione non c'è nulla da trascrivere allora poiché a mio avviso questa situazione non è soddisfacente io ipotizzerei che si vada a trascrivere un atto ricognitivo o comunque un atto notarile o una sentenza di accertamento però continuare a dire che non va trascritto sembra che sia diciamo attribuire troppo vantaggio al coniuge superstite in questo caso tante su questo punto se poi i notai che ci hanno validamente con grande imperizia seguito in questi lavori volessero poi a conclusione della mattinata fare un intervento ci sarebbe comodo perché loro in materia di trascrizione sono veramente maestri ecco invece e qui devo diciamo dare a Cesare quel che di Cesare il collega Enrico Ostuni ha scritto brillantemente sovvertendo l'orientamento giurisprudenziale in materia di assegnazione della casa coniugale in comprovvedimento giudiziale invece qui la trascrizione è necessaria proprio sulla base della riforma della legge del diritto di famiglia e con l'introduzione dell'articolo 155 quater che prevede proprio la trascrivibilità con conseguente opponibilità ai terzi proprio del diritto dell'assegnazione della casa coniugale in questo modo dice giustamente il collega Castuni cioè la dottrina in questo modo noi possiamo ritenere opponibile il diritto di abitazione solo se è trascritto è sacrosanto anche perché non sembra corretto queste sono argomentazioni di una sentenza della Cassazione del 2008 chi vuole scrivere la 16.599 non sembra corretto che appunto il coniuge assegnatario che non ha trascritto il diritto di abitazione dell'assegnazione della casa coniugale sia titolare di una situazione più robusta più tutelata nei confronti del creditore procedente rispetto invece ad una situazione di una intanto rispetto al coniuge non assegnatario che era il debitore e anche rispetto ad una situazione diciamo di una famiglia di non separati cioè dove non ci sia il problema dell'assegnazione della casa perché in questo caso appunto il creditore non troverebbe ostacolo e allora in effetti si può fare un'osservazione che la tutela dei minori qui è rafforzata forse in modo eccessivo in considerazione della separazione perché i minori di coppie non separate questo vantaggio non ce l'hanno perché il debitore deve lasciarla a casa anche se appunto con lui convivono figli minorenni una sentenza del 93 per la verità del mai dimenticato Giancarlo Bibolini la numero 3722 del 27 marzo del 93 appunto la 3722 diceva del 93 diceva queste cose e cioè che il diritto di abitazione in questo caso era stato trascritto dopo l'ipoteca ma prima del fallimento e comunque lui dava per scontato cioè l'estensore dava per scontato che la trascrizione doveva esserci stata il diritto di abitazione trascritto dopo l'ipoteca ma prima del fallimento risultava quindi non opponibile al creditore ipotecario opponibile invece alla massa perché è trascritto prima del fallimento cosicché dopo la soddisfazione in sede concorsuale del creditore ipotecario il titolare del diritto di abitazione che non poteva opporsi alla soddisfazione individuale di quel creditore titolare di ipoteca anteriore ma aveva un diritto prevalente su quello della massa poteva intervenire e soddisfarsi sul residuo se c'era un residuo e quindi qui appunto si dava per scontato che la trascrizione dovesse esserci ma la situazione più esplosiva è quella dell'usucapione perché la cassazione con la giurisprudenza di legittimità in questa materia attribuisce all'usucapiente una tutela assoluta e a 360 gradi fino al punto di riconoscere validità all'usucapione che si è maturata dopo l'inizio dell'esecuzione forzata che è una cosa posso dire aberrante è troppo forza ma è la cassazione e lo so ma è dico vi rendete conto alcune volte questa corte suprema di cassazione non è che dica delle cose del tutto esatte questa sul lucrocapione ha messo in crisi tutte le vendite fallimentari non so se quanti di voi hanno approfondito questo problema ma è di un'estrema gravità sono 30 anni che andiamo con questo orientamento per cui in realtà diciamo il principio ispiratore di queste decisioni sempre lo stesso ma bisogna vedere se è valido e cioè che non ci può essere conflitto o perlomeno che il conflitto tra l'acquirente a titolo originario non può essere risolto rispetto all'acquirente a titolo derivativo con i principi in tema di trascrizione a me sembra che si possa comunque riportare l'acquisto a titolo originario nell'alveo della possibile confligenza con l'acquirente a titolo derivativo semplicemente onerando l'usucapiente di trascrivere qualcosa così come il legatario ex legge può trascrivere un atto ricognitivo o la sentenza di accertamento ugualmente si attenda che l'usucapiente ottenga la sentenza di accertamento e poi trascriverà quella ma pensare che un creditore legittimamente iscriva ipoteca e trascriva il pignoramento e poi si ritrova a spuntare questo fungo con un diritto prebale e per questo è certo che è così no perché in realtà dalla prospettazione che ne offrivi sembrava effettivamente che fosse un'evenienza patologica invece fa parte della fisiologia del sistema e ecco perché per perdonami se prendo la parola ti es proprio del tuo tempo ecco ma concludo tra un istante ecco perché per evitare l'insorgere di quel che può apparire un inconveniente è necessario essere rigorosi nel vaglio della documentazione ex articolo 567 questo rigore va trasferito anche sul terreno fallimentare perché il riscontro cartaceo ex cartola del possesso ultraventennale dell'immobile in capo al fallito o all'esecutato vuol dire sostanzialmente riscontro di un possesso che si è snodato nei tempi scanditi dagli articoli 1142 1143 e 1146 il che vorrà dire che sicuramente il terzo potrà in ogni momento dimostrare di essere di aver acquistato il diritto di proprietà sul fondo corneliano perché fa parte della fisiologia del sistema ma l'aggiudicatario potendo unire il tempo del proprio potendo usufruire del tempo del possesso dei suoi autori evidentemente avrà a sua volta una comoda posizione probatoria nel giudizio che subisce di rivendicazione che subisce sostanzialmente da quello che si afferma proprietario di diritto di proprietà nel giudizio che l'asserito usucamente inizia per ottenere il riscontro del proprio diritto sul punto credo che il dottor Mitone però chiarirà che questi accertamenti cartacei è impossibile seguirli quindi tu stai viaggiando su un piano teorico io auro vivamente al dottor Mitone di andare al più presto in Cassazione e cambia completamente l'orientamento noi non so se possiamo aiutarla a intervenire con il presidente voi del massimario dategli una mano grazie per l'auspicio in sostanza nulla vieterebbe secondo me all'usucapiente di trascrivere quantomeno la domanda giudiziale e far sapere al mondo che esiste noi lo sappiamo perché la pratica ce lo suggerisce quotidianamente cioè quando come dici tu appare il terzo che asserisce di avere usucapito ed appare come un fungo sarà l'amico di vecchia data del sì ma questo fa parte del può apparire in un evento patologico ma fa parte della patologia del sistema neutralizzare questa possibilità vorrebbe poi per certi versi dire neutralizzare l'istituto dell'usucapione se io ritengo di aver posseduto il fondo corneliano di averlo posseduto da 20 anni e passa benché poi come dire questo fondo corneliano sia stato oggetto di atti derivativi perché Tizio assume di averlo venduto a Caio Caio assume di averlo venduto a Sempronio Sempronio a Medio che subisce il pignoramento questa vicenda diciamo cartacea non può assolutamente precludere al Tizio assolutamente estraneo di invocare ancorché nella fattispecie possa essere mosso da altre finalità ecco perché dico il problema non può essere neutralizzato può essere solo stemperato nella sua valenza patologica in che modo attraverso il rigoroso riscontro della documentazione ex articolo 560 posso intervenire non voglio rubare spazio ai colleghi però io penso che qui la sintesi non possa trovare spazio sul piano teorico a mio modesto avviso perché condivido l'impostazione in astratto di Gino Abete e condivido anche però l'esigenza che manifesta Giuseppe Limitone il punto è a mio avviso che le prassi virtuose che abbiamo avuto la fortuna e anche se mi consentite l'incoscienza di sperimentare nel corso del decennio in cui io che Giovanni ma ci sono tantissimi altri colleghi che hanno anche Luigi ha fatto il salto dal versante fallimentare a quello dell'esecuzione quindi sono certo che ci comprendiamo tutti benissimo il fatto è che questi problemi si risolvono con una attenta e oculata gestione da parte del giudice dell'esecuzione e soprattutto dell'ausiliario e quindi con ausiliario mi riferisco non soltanto al custode mi riferisco soprattutto all'esperto non è casuale che nell'articolo 173 bis delle disposizioni di attuazione a seguito di questa aventata innovatrice delle prassi virtuose il legislatore abbia previsto che il perito deve relazionare immediatamente al giudice sullo stato di occupazione dell'immobile e quindi è come dire il giudice dell'esecuzione o il giudice delegato deve essere avvertito dalla presenza di un soggetto che evidentemente si afferma in relazione al bene afferma in relazione al bene un titolo di occupazione diverso da quello che presuppone l'audatio auctoris e quindi sostanzialmente o una detenzione a titolo di locazione o affitto per cui da quel momento che occorre immediatamente attivare la procedura e in quel caso occorre entrare se mi consentite il termine calcistico entrare a gamba tesa e non attendere inutilmente il decorso del termine che matura purtroppo in corso di procedura e allora se cerchiamo di trovare una sintesi la sintesi è sotto il profilo della corretta gestione da parte di tutti i soggetti che si trovano a intervenire nel procedimento giustissimo ecco proprio il caso dell'usucapione ci consente di chiarire ancora di più la differente reazione che può avere il terzo nei confronti dell'esecuzione secondo il momento dell'intervento e secondo che l'esecuzione riguardi lui come persona oppure riguardi il suo bene infatti l'usucapiente che ha notizia della pendenza del processo esecutivo può proporre opposizione di terzo ex articolo 619 contro il creditore procedente nell'esecuzione che sta viaggiando contro un altro quindi qui l'usucapiente è terzo viceversa se l'usucapiente è lo stesso soggetto non propone questa opposizione ex articolo 619 e si limita ad aspettare gli eventi e quindi l'aggiudicazione quando l'aggiudicatario agisce nei suoi confronti per il rilascio dell'immobile può reagire ma questa volta con l'opposizione ex articolo 615 perché in questo caso l'esecuzione è diretta contro di lui poi da ultimo una sentenza della Cassazione 15.698 15.698 del 18 settembre 2012 ci dice che se anche l'usucapione è stata accertata tra il debitore esecutato e l'usucapiente in un processo che aveva come parti questi due soggetti quella sentenza non può essere utilizzata come giudicato dal giudice dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 619 sollevata proposta dallo stesso usucapiente contro il creditore quindi ripeto un attimo perché abbiamo un processo in cui si accerta l'usucapione tra il debitore e l'usucapiente processo interalios poi lo stesso usucapiente per non saperne leggere scrivere fa l'opposizione all'esecuzione ex articolo 619 e c'è un giudice dell'opposizione che ha come soggetti di quella causa l'usucapiente ancora il debitore e il creditore soggetto nuovo che non faceva parte del primo giudizio ebbene quel giudice non può usare la sentenza pronunciata tra debitore ed usucapiente quindi interalios non la può usare come giudicato nei confronti del creditore e la Cassazione ci dice che dovrà riistruire cioè la può usare certamente come fa un argomento di prova e con tutto il materiale istruttorio già esaminato però dovrà tenuto dice a dar corso nuovamente all'istruzione della causa nel giudizio ex articolo 619 perché? perché quell'accertamento il primo non è utilizzabile contro il creditore che non era parte di quel processo veniamo adesso nella seconda parte della mia relazione alle stesse problematiche esaminare le stesse problematiche però con riferimento al concorso cioè al fallimento e anche considerando i tratti comuni che riguardano sia l'opposizione ex articolo 619 sia la domanda di rivendica ex articolo 103 in comune sostanzialmente abbiamo che il rivendicante ex articolo 103 non sta proponendo sostanzialmente un'opposizione ex articolo 619 all'interno del concorso perché il mezzo processuale è praticamente analogo il punto di contatto tra le due situazioni procedurali quella concorsuale e quella individuale è dato dal regime probatorio perché in entrambi i casi l'opposizione ex articolo 619 e la rivendica ex articolo 103 ruotano intorno al sistema approbatorio delineato dall'articolo 621 del codice di procedura civile che cosa dice l'articolo 621 giusto perché ricordiamo di cosa stiamo parlando quando appunto il terzo si oppone all'esecuzione perché essa sta investendo un bene proprio e non del debitore esecutato il terzo opponente deve dare la prova di essere lui il proprietario anziché l'esecutato questo per poter vincere ovviamente la sua opposizione e questa prova non può essere data con testimoni quando si tratti di un diritto sui beni immobili perché ovviamente in materia di immobili vale la regola della trascrizione mentre in materia di immobili registrati la Cassazione ci dice che seguono i mobili registrati nonostante il regime pubblicitario che ha valore solo dichiarativo seguono la stessa regola dei beni immobili non registrati quindi vale il 621 anche per i mobili registrati ecco il terzo deve provare il suo diritto sui beni immobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore non può approvarlo appunto con testimoni tranne che l'esistenza di questo diritto non sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore allora la norma praticamente attribuisce al terzo la facoltà di introdurre la prova testimoniale soltanto quando ci sia un giudizio di verosimiglianza in ordine alla collocazione spaziale del bene in relazione all'attività professionale o commerciale oppure artistica del detentore dal punto di vista oggettivo la situazione diciamo il collegamento spaziale si pone o con riferimento alla casa del debitore che va intesa come dimora stabile quindi non certo la camera d'albergo o l'azienda intendendo per azienda sia il luogo in cui viene esercitata l'attività professionale o commerciale o qualunque altra attività sia trattandosi di persona giuridica la sede della società quando poi in un ambiente soprattutto in una casa convivono più persone allora tutti i beni esistenti in quella casa possono essere pignorati per un credito esistente nei confronti di chiunque degli abitanti poi starà agli abitanti che possono essere sia il coniuge sia un congiunto il genitore o il figlio starà a loro dimostrare di essere invece proprietari proponendo posizione ex articolo 619 e fornendo la prova ovviamente non per testimoni di avere la proprietà in base a titolo avente data certa anteriore rispetto al pignoramento per le stanze affittate agli studenti stanze in famiglia locali oggi si affittano singoli locali la gente per campare affitta una parte della casa arriva l'ufficiale giudiziario va a pignorare quei beni e vallo a dimostrare lì la prova è difficile esatto poi anche pensate all'automobile parcheggiata nei pressi dell'abitazione o dal concessionario fornita in conto vendita insomma sono tutti casi particolari in cui la regola è sempre quella di dover dimostrare con atto scritto avente data certa anteriore di essere di essere qui si parla di doppia prova di essere stato proprietario prima cioè nel momento dell'acquisto di aver acquistato la proprietà e di averla mantenuta quindi non basta dimostrare l'acquisto iniziale ma occorre dimostrare anche la proprietà attuale cioè il fatto di aver affidato si chiama prova dell'affidamento per un titolo diverso dal trasferimento della proprietà cioè di aver affidato il bene al soggetto che lo detiene per un motivo che non implicasse l'acquisto della proprietà pensate al caso più semplice della macchina portata dal riparatore oppure del quadro fornito dato al restauratore o che ne so io le scarpe date al calzolaio insomma tutto questo per dire che è possibile in questo caso dimostrare che l'affidamento cioè che il titolare del diritto è rimasto tale nonostante l'affidamento al detentore noi all'università citiamo sempre il caso della bicicletta che viene lasciata dall'amico a casa che è venuto alla pioggia gli dice beh la bicicletta te la lascio vado via a piedi il giorno dopo arriva l'ufficiale giudiziario e la pignora e bisogna dimostrare che quella bicicletta apparteneva a un altro soggetto non è facile qui a Bantova tutti andate in bicicletta state attenti non lasciate mai le biciclette a casa di debitori soprattutto se sono imprenditori un caso particolare è dato dalla vendita con riserva di proprietà anche la riserva di proprietà deve risultare dato scritto avente data certa anteriore voi sapete che però l'acquisto della proprietà si realizza con il pagamento dell'ultima rata del prezzo quindi il compratore intanto acquista il possesso che è destinato a diventare proprietà col pagamento dell'ultima rata del prezzo acquista il possesso da subito e con esso acquista anche i rischi per il perimento fortuito della cosa tuttavia se la cosa viene pignorata potrà il venditore fare opposizione ex articolo 619 cioè il venditore di cosa a rate con riserva di proprietà dimostrando che non è stata ancora pagata l'ultima rata del prezzo e non essendo stata ancora pagata l'ultima rata del prezzo lui è rimasto proprietario e quindi il bene è stato pignorato nei confronti di persona che non è ancora diventata proprietaria dall'altro canto il creditore potrà provare cioè il creditore che subisce l'opposizione del terzo venditore che non ha ancora perso la proprietà il creditore potrà provare invece che il prezzo è stato pagato magari anche in contanti e quindi che la proprietà è passata e che lui correttamente ha pignorato quello stesso bene con riferimento al fallimento il concetto diciamo la nozione fondamentale intorno alla quale ruota tutto il regime probatorio è quella fornita dall'articolo 2704 del codice civile ed è appunto la nozione di data certa anteriore al fallimento ma anche qui al pignoramento noi l'abbiamo interrotta in più occasioni con tutta una serie di interventi fuori programma però la dottoressa De Simone mi manda un messaggio di stringere un po' coi tempi però non le vogliamo togliere parti importanti lei più o meno quanto prevede ancora io mi calcolavo 8 minuti no anche 10 anche perché ricordo alla dottoressa De Simone che non ci sarà la relazione di sintesi perché di fatto la stiamo facendo e che anche il dibattito lo abbiamo a mano inserito quindi facendo bene i conti dovremmo rientrare l'unico dubbio e lo risolviamo subito è se subito dopo la chiusura della relazione del dottor Dimitone vogliamo passare al dottor Saia cosa che io auspico invece lei dice no vuole fare il break perché niente break sì perché il dottor Saia tra l'altro ha degli argomenti strettamente collegati poi ce ne andiamo al bar ci distraiamo ci dimentichiamo tutte cose non possiamo lasciare niente signori break niente oggi break soppresso e chi vuole andare a prendere un caffè dica è offerto dalla dottoressa di Simone lo pagherà ugualmente glielo fanno pagare due volte grazie allora sempre otto minuti da ora dieci ecco la data dice l'articolo del 704 della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o infine dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento la norma è stata più volte interpretata applicata in modo molto diverso soprattutto con riferimento al timbro postale e sostanzialmente che cosa vuol dire la norma significa che non che vuole insomma la norma ha la funzione di evitare le frodi a danno dei creditori o del creditore quando è uno solo procedente mediante la formazione di atti successivi alla creazione del vincolo di indisponibilità costituito o dal pignoramento individuale o dal pignoramento generale id est spossessamento costituito dalla dichiarazione di fallimento per cui con quest'atto diciamo formato successivamente vengano sottratti beni o risorse monetarie pensiamo ad una cambiale appunto successiva vengono sottratte risorse ai legittimi creditori anteriori al pignoramento o al fallimento cioè i creditori concorsuali e qui è importante anche capire nei confronti di chi opera la norma perché la norma ha per presupposto concettuale il concetto di terzietà e cioè si applica ovviamente la data certa si applica per i terzi perché per coloro che hanno partecipato all'atto non c'è un problema di data certa perché entrambi erano lì si sono guardati e si sono ricordati di sé medesimi viceversa è per il terzo che vale la regola della data che deve essere certa certa significa indiscutibile quindi la data è certa quando determinati eventi che hanno accompagnato la formazione dell'atto rendono indiscutibile quindi non contestabile il momento temporale in cui è stato posto in essere l'atto e chi è terzo allora terzo è in senso stretto colui che non è parte dell'atto ma in senso più ampio come dice la giurisprudenza in senso più ampio terzi sono tutti coloro che non fanno parte che in qualche modo non hanno derivato direttamente diritti o situazioni giuridiche dal rapporto che è sorto dall'atto posto in essere in quel determinato momento temporale quindi abbiamo un rapporto giuridico parti sono coloro che traggono direttamente effetti da quel rapporto giuridico terzi sono tutti gli altri nel caso del fallimento la terzietà implica un conflitto potenziale tra coloro che appunto sono stati parti dell'atto e la massa dei creditori intesi collettivamente quindi nella figura del curatore che la Cassazione ci insegna che è terzo tutte le volte in cui si pone in posizione di tutela della massa quindi ad esempio in tutte le azioni di ricostruzione dell'attivo nella revocatoria per esempio nella verifica del passivo nel giudizio di opposizione stato passivo cioè tutte le volte in cui agisca diciamo in luogo della massa a tutela della massa e viceversa quando il curatore si sostituisce al fallito per esempio per l'adempimento di un contratto e per un pagamento di una somma allora lì diciamo utendo iure proprio non è terzo sono terzi anche i creditori non intesi come massa in questo caso nella figura del curatore ma intesi come singoli in quanto ciascuno di loro è in potenziale conflitto con tutti gli altri per la partecipazione al concorso che cos'è sotto questo profilo la data certa dell'atto la data certa dell'atto è quell'elemento estrinseco all'atto ma coessenziale che consente a quel creditore di essere collocato temporalmente prima dell'apertura del concorso quindi secondo la giurisprudenza che io ritengo più condivisibile diventa una condizione dell'azione cioè un requisito essenziale della domanda senza il quale quel creditore perde la qualifica di concorsuale e non può aspirare a divenire concorrente per cui questo bel discorsetto per dire cosa che essendo condizione dell'azione la sua mancanza deve essere rilevata ad ufficio dal giudice quindi il giudice nell'opposizione al stato passivo può benissimo anche nell'inerzia del curatore o nella sua contumacia rilevare il difetto di data certa di un atto e quindi ritenere che quel creditore non abbia fornito la prova della sua anteriorità rispetto al fallimento e quindi della sua qualità di concorsuale e quindi non potrà diventare concorrente notare bene che l'articolo 2704 con tutto il suo portato e anche questo è importante non si riferisce al sostrato cartaceo del documento perché tante volte soprattutto in tempi recenti e non recentissimi per le fiduzioni delle banche che vanno all'ufficio postale a farsi mettere il timbro quel timbro a tutto voler concedere che oggi è chiamato timbro per la data certa ma conservo tutti i miei dubbi anche se ho molto elasticizzato il provvedere in sede di verifica del passivo quel timbro è un timbro che certifica la data attenzione a questo passaggio che è molto importante del pezzo di carta per un semplice motivo il 2704 elenca una serie di atti o situazioni o di fatti che rendono indiscutibile la data per i terzi in modo assoluto e non non discutibile pensate alla morte l'impossibilità fisica una registrazione presso un ufficio pubblico un atto notarile cioè sono tutte situazioni assolutamente non discutibili e poi l'ultima norma in chiusura ci dice o qualunque altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento quindi fatti con una forza tale che debba essere poter equiparata a quella dei fatti precedenti ma io che personalmente ho assistito devisu et auditu ex propis ex mei sensibus ho assistito alla posizione di questi timbri perché ero in coda all'ufficio postale ed è arrivato un signore con un pacco chiedo scusa un pacco di fogli così e ha detto all'ufficiale postale per favore mettimi la data certa e questo ufficiale postale ha cominciato si vede da là a fare così no? allora la data certa in quel caso lì veniva posta al foglio e non tutti i fogli erano compilati invece il 2704 presuppone e tutta la normativa in materia di opponibilità lo fa chiaramente presupporre che sia il contenuto negoziale a dover avere data certa non il sostrato cartaceo cioè la base fisica sul quale il contenuto negoziale o volitivo dichiarativo vengono inseriti e quindi stiamo attenti qual è il discrimine direte voi ma allora qual è la differenza perché adesso le poste si sono allertate e hanno emanato una circolare nel 2004 che adesso è entrata diciamo in pieno vigore applicativo secondo la quale la parte può chiedere espressamente la posizione del timbro per data certa ma non è cambiato niente è sempre una timbratura ma perché non è cambiato niente? perché colui che appone il timbro e questo è il passaggio fondamentale non è tenuto alla verifica del contenuto negoziale dell'atto quindi io mi chiedo l'ufficiale postale che ne sa di una fiduzione di un contratto di qualcosa per cui insomma adesso per carità in sede di opposizione di verifica il passivo stiamo un pochino più larghi però secondo me i problemi non sono cambiati perché l'altro fatto ugualmente certo appositivo della data certa deve essere un fatto proveniente da un terzo e non può essere un fatto riferibile al disponente pensate alla fattura la fattura non conferisce data certa dice la Cassazione perché intanto non ha contenuto negoziale e comunque è promana dallo stesso soggetto che se ne avvantaggia quando io porto il foglio di carta con la fiduzione al timbro postale non mi privo mai della disponibilità del foglio perché lo do me lo timbro me lo prendo e quindi non c'è mai da parte del terzo un intervento autonomo di verifica del contenuto negoziale vado in chiusura perché vedo che il tempo è volato la Cassazione ci dice che la prova della data certa è libera quindi non è più legata allo stretto rigore documentale stabilito dal 2664 quando la scrittura non è invocata come contenuto negoziale cioè come contratto o atto produttivo di effetti giuridici ma è invocata come mero fatto storico e anche qui secondo me siamo di fronte ad un'involuzione argomentativa perché che cosa vuol dire fatto storico alla fine io con tutto quello che ho visto nelle procedure concorsuali che ho insomma sempre vedo che quando si chiede la prova di questo benedetto fatto storico non è mai fine a se stessa ma è sempre poi per tranne degli effetti giuridici quindi non vedo tutta questa grossa differenza tra la prova del fatto storico e la prova del negozio perché poi una volta provato il fatto storico hai provato il negozio e hai tratto degli effetti forse è un modo elegante di aggirare il rigore normativo ma se il rigore normativo c'è vuol dire che il motivo c'è e il motivo è sempre lo stesso di evitare le frodi a danno dei creditori io temo di dovermi fermare qua e vi ringrazio purtroppo tutto non si è potuto dire grazie 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 grazie